Ciao ragazzi, oggi dediceremo questa giornata di pesca al caverno d'Italia. In tecnica light, utilizzeremo dei flat netto da 20 grammi, ma partiamo dall'inizio. Volevo prima mostrarvi dove sono posizionate le due canne. Sono posizionate su un tripode in alluminio della linea K-Carp, si chiama L'Excellence. Come canne sto utilizzando due canne da 12 piedi, abbastanza morbide perché oggi ci vogliamo divertire, ma comunque sia canne che hanno una buona riserva di potenza. Sono due canne, ripeto, 12 piedi con azione progressiva perché ho bisogno comunque di schiena. Applicate alle canne ho la coppia di due mulinelli stupendi, sono gli Invictus 4000, imbobinate con del 18. Grazie.